Buonasera e buon sabato, ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. In apertura ci occupiamo di salute e di prevenzione, parliamo di malattie ostruttive. Questa è un'occasione che ci vede scelti o prescelti nell'ambito di un programma percorsa che parte da Verona e arriverà a Roma in 11 tappe, laddove ciascuna tappa è contrassegnata da una serie di iniziative che la struttura di pneumologia, che ho diretto fino al 31 maggio, si mette in gioco per un lavoro di sensibilizzazione, per un lavoro di screening e di valutazione delle possibilità alle nostre di trattare patologie, in questo caso la BPCO, l'asma e la granulomatosi osinofilica, in particolare queste, ma nell'ambito quindi di iniziative su malattie croniche che rappresentano un problema per la comunità in termini di tasso e di incidenza e di morbilità e di mortalità. Questa iniziativa è stata promossa dall'associazione Respiriamo Insieme, con la quale noi siamo gemellati da qualche anno, il cui presidente Simona Barbaglia, insieme ad altre associazioni, partnership e sponsor che hanno voluto questa iniziativa, è l'artefice di questo desiderio di portare l'osservazione e le osservazioni che andremo a fare in ciascuna città prescelta a livello ministeriale per in qualche modo dare delle risposte attualmente in evase, risposte in termini di giusto inquadramento di patologia, ma soprattutto nel desiderio di farla e farle emergere perché spesso sono sottodiagnosticate e sottovalutate. Rimaniamo in tema prevenzione, pubblico e terzo settore insieme per la salute dentale. Gli screening dentali partiti la scorsa settimana, che proseguiranno anche in questa settimana in Piazza Donatello, rappresentano l'esito operativo di un progetto che l'Associazione Territorio e Cultura porta avanti da oltre un anno e che ha coinvolto l'ASL di Novara, l'Istituto Bottacchi, in particolare la scuola primaria Levi e l'Associazione Agorà Donatello. Tra gli scopi del progetto vi è senz'altro quello della prevenzione, ma anche quello di sostenere i costi delle cure odontoriatiche per le famiglie che ne hanno necessità e per questo scopo è stato istituito presso l'Associazione un fondo nel quale sono già confluite importanti donazioni, tra le quali quella dell'Associazione Industriale di Novara e quella della Fondazione di Agostini. Inoltre il progetto rappresenta anche l'occasione di sperimentare una modalità per attuare la legge regionale, la legge numero 25 del 20 dicembre 2022, che ha proprio lo scopo di regolamentare e promuovere la collaborazione tra istituzioni pubbliche e enti del terzo settore finalizzata alla salute dentale. Ci tengo a ringraziare personalmente a nome di tutta l'Associazione il professor Vincenzo Rocchetti e tutta la sua squadra che stanno collaborando volontariamente per la realizzazione di questo progetto e l'Asdi di Novara, il dottor Penna e tutta l'Asdi di Novara per il supporto che fin dall'inizio ha voluto dare a questo progetto e che nelle prossime settimane istituirà un atto molto importante, l'albo, come prevede la legge, come prevede il protocollo di intesa, l'albo degli odontoriatri volontari dell'Asdi di Novara. Ed ora andiamo a Vercelli dove domani ci sarà la cerimonia di interramento della Capsula del Tempo, un contenitore in cui ogni cittadino può inserire un proprio ricordo da riscoprire poi tra dieci anni quando la Capsula sarà riaperta. È arrivata la grande giornata della Capsula del Tempo di Vercelli, domenica 30 giugno, appuntamento con la Rete, qui con il responsabile Maurizio Roccato. Allora, come funziona Maurizio? Il 30 giugno, appunto, con orario 9, 13, 14, 17, i volontari dell'Associazione riceveranno il pubblico che vorrà partecipare comportando la propria testimonianza scritta al Banco dell'Accoglienza dove verrà ricevuta, registrata e la persona che l'ha conferita potrà collocarla con la propria mano all'interno della Capsula. Esattamente dov'è questo appuntamento? L'appuntamento sarà in via Francesco Baranca 89, dove già stato allestito il necessario, è stato effettuato lo scavo negli scorsi giorni e depositato il pozzetto in cemento che ospiterà la Capsula. Al termine della giornata, intorno alle ore 17, alla presenza di Carlo Olmo che gestisce la società sportiva che affitta il terreno di proprietà della provincia e il presidente della provincia Davide Gelartino, presenzieranno la cerimonia di chiusura con l'inno di Mameli e la partecipazione, speriamo, del pubblico numeroso che ha voluto assistere e partecipare al nostro evento. E quindi, insomma, per dieci anni si conserverà qualcosa che parlerà di questo tempo a Vercelli nel 2034, lo riaprirete. Assolutamente. L'intenzione è di conservare la memoria di Vercelli e della città stessa, che è un momento di grandi cambiamenti, e anche quella personale, perché vale la pena, soprattutto per chi è giovane, rivedersi, ricordarsi tra una decina d'anni. Andiamo nell'abbazia di Lucedio, immersa nelle risaie tra Vercelli e Trino, dove è in corso un'interessante mostra di installazioni dell'artista Carla Crozio. Dal 20 giugno e fino a novembre sarà possibile visitare le installazioni realizzate dall'artista Carla Crozio nel progetto Dal buio verso la luce. Le visite, sottolineo, sono possibili in corrispondenza delle date comunicate sul sito del Principato di Lucedio e della provincia di Vercelli, con noi Carla Crozio, artista apprezzata e conosciuta a livello nazionale e anche oltre, un'installazione, anzi un'installazione che si articola su tre punti, assolutamente di grande impatto, direi emotivo e visivo. Che cosa ci racconta Carla questa storia artistica? Io sono partita dalla storia di questo Principato strepitoso, veramente pieno di storia e quindi mi sono agganciata a Lucedio, alla luce, verso la luce e ho iniziato questo percorso usando le mie installazioni diffuse all'interno del Principato con ombra pericolosa nella stanza della colonna che si potrà vedere nella stanza della colonna, qui nella chiesa di Santa Maria Assunta con verso la luce che è una processione dalle tenebre verso la luce che ho posto sul tabernacolo. e poi penderà dal campanile un lavoro in lana, lana policroma che titola appunto umano corpo scarto, quindi chi sale sul campanile sarà accompagnato dalla visione di questo strano pezzo di corpo a cui sinceramente non so dare una connotazione logica. C'è una raccolta di materiali, quindi un recupero di materiali e c'è anche insomma in questa installazione un racconto di vite no? Sì perché vabbè ombra pericolosa è diciamo accompagnata da un mio testo che dovrebbe veramente raccontare che cosa io vedo all'interno di quell'ombra cattiva che c'è in là. E qui invece partiamo appunto con questi stracci che io ho trovato in alcuni porti italiani che ho catramato ulteriormente esattamente come si mettono questi catrami sulle barche che arrivano dei migranti. Ed ora come ogni sabato spazio al gusto c'è QCAP la rubrica curata da Jacopo Fontaneto. Ecco la ricetta gustosa di oggi. Io in questo momento sto facendo il tè secondo tradizionale il metodo cinese. Queste sono delle foglie di tè che ho raccolto in un campo che ho rigenerato diciamo in un terreno che si trova sul lago di Lugano. Era abbandonato ed era pieno di infestanti e ho cominciato a pulirlo e ho piantato una serie di cose tra cui la Camellia sinensis. Sul lago di Lugano come sui laghi del nord c'è un microclima particolare perché c'è una temperatura mite anche d'inverno quindi le temperature non scendono mai più o meno sotto lo zero e questo è il motivo per cui sui laghi c'è una commissione di piante e soprattutto ci sono anche delle piante esotiche che arrivano dai climi tropicali e che si sono adattate. C'è prima il momento della raccolta quindi si raccolgono le prime tre foglie ora mi dispiace che siamo arrivati a questo punto in cui la foglia ormai è pressoché desidratata però questa mattina questo wok era pieno di foglie verdi appena raccolte. piano piano si passa da un primo processo che è quello che in gergo viene detto l'uccisione del verde in cui si fermano i processi di ossidazione e dopodiché c'è la parte in cui si dà la forma alla foglia. Un tè da campo sì nel senso che è un tè detto fatto cioè sono state raccolte le foglie è stata fatta la lavorazione abbiamo ottenuto il tè e dopodiché lo abbiamo anche preparato e ce lo siamo bevuti direttamente qui. Abbiamo creato questo piccolo festival che incrocia il design con le strade del cibo e le culture urbane abbiamo invitato tanti ospiti a raccontarci storie tra chi fa il tè in Ticino a chi produce sidro in Piemonte invitando i visitatori a provarli con noi a fare questa esperienza e portando diciamo questo parco rigenerando questo piccolo parco che è un'ausa felice un po' nascosta a rifiorire per un anno. Grano Saraceno per Guido Tommasi editore la storia di una pianta ma anche di una cultura e di una tradizione che ha incrociato quella dei territori alpini e in Italia della Valtellina in particolare patria dei pizzoccheri. Coltivazione, ricette e curiosità nel volume scritto da Bertrand Larcher Eleonora Pelli Postizzi firma per i tipi di Grivaudo editore Cuciniamo ricetti per tutti i gusti e le età dai waffle al caramello e burro salato ai panini al latte poi ovviamente alla pasta non solo un ricettario per bambini ma per tutti dagli 0 ai 99 anni con ricette semplici da realizzare idee operative anche per i ragazzi che vogliono preparare il pranzo da soli o che si divertono a cucinare per amici e parenti. È tutto, la linea Weekend Sport grazie per essere stati con noi, buona serata con i nostri programmi.